E ancora in carcere il regista Jaffar Panahi è arrestato lunedì sera a Tehran. Si tratta del terzo regista ad essere incarcerato in Iran dopo Muhammad Arasolof e Mostafa Alamad arrestati lo scorso 8 luglio. Il governo di Tehran ha improvvisamente intensificato la repressione nei confronti dell'industria cinematografica del paese. Panahi ha vinto il Leone d'Oro a Venezia nel 2000 e l'Orso d'Oro a Berlino nel 2015.